Meno 6 all'ora X, il lungo conto alla rovescia verso l'eccellenza, oggi propone un capitolo interessante contro un 11 di livello in un match molto sentito. Teatro insolito per la contesa, è quello stadio dei Marsi che probabilmente ospiterà le gesta ingiziane sino a fine campionato. Inagibile il campo luchese, l'ennesimo di una sequela che sta lasciando la Marsica senza impianti utilizzabili. I ragazzi di Giordani non si perdono d'animo e onorano al meglio 600 appassionati luchesi, tifosi con l'automobile, per necessità e per passione. Pronti via e Daniele Di Gironamo spiega subito ai presenti che oggi punta al 10 in pagella e lo otterrà. Al quarto però l'estremo Orsini riesce ad arginarlo con bravura. Ma l'appuntamento con la rete è solo rinviato. Siamo al quarto d'ora infatti quando il rovetano è un rapace e in velocità infila lungici Vibratiano che accusa oltremodo e non controbatte. Sant'Egidiese non pervenuta, di Girolamo dilagante e di nuovo pericolosissimo al ventesimo su imbeccata perfetta di Pasquale Moro. Salva Orsini e si riparte ad una porta sola. A cercare l'Eurogoal questa volta è Margaiotti che d'esterno prende in pieno la traversa giallorossa. Angizia in grande spolvero che gioca addirittura di volo dieci minuti più tardi quando il solito Daniele Di Girolamo diventa assist man e suggerisce per Moro che non impatta di testa e tiene in vita l'undici di Nardini che però proprio in chiusura di tempo capitola. 45esimo, parti invertite, Moro pennella per Di Girolamo che non perdona e blinda i tre punti e l'eccellenza. La ripresa propone molti meno spunti, i padroni di casa gestiscono con tranquillità, la Santo ci prova ma senza lasciare tracce apprezzabili almeno sino al 37esimo quando il diagonale di Di Giorgio si perde al lato di un metro buono. Su un ribaltamento di fronte Margaiotti è ficcante ma il cross finale viene spazzato in qualche maniera dall'incerta retroguardia giallorossa talmente incerta che al 41esimo il neo entrato Bricio la uccella tutta entrando in porta con il pallone per una rete che si scrive tre ma si legge eccellenza.